Ciao a tutti, oggi vi registro il video per la procedura per l'inserimento delle nuove recensioni rispettando i criteri che mi ha suggerito il ragazzo che si occupa del sito queste procedure vanno bene sia per la modifica delle vecchie recensioni, quindi quelle sulle bots sia per l'inserimento di quelle nuove come primo suggerimento vi indico di creare due nuove cartelle nel desktop o dove preferite sperando che voi sappiate fare questa procedura di creazione di nuove cartelle comunque sia la indico rapidamente clicco con il tasto destro del mouse in un punto libero del desktop clicco con il tasto destro, si apre questo menu, nuova e seleziono cartella la chiameremo immagini in evidenza e l'altro la chiameremo la chiameremo immagini interne agli articoli questo perché? perché i nomi di alcuni file immagini saranno uguali per evitare la sovrascrittura per errore o che vi chieda di sostituire o meno l'immagine li mettiamo in due cartelle separate ce le mettiamo qui a disposizione e ci serviranno a breve questo è il primo passo, quindi creare due nuove cartelle con il nome immagini in evidenza dove lì inseriremo in sostanza, salveremo i file delle immagini che imposteremo in evidenza negli articoli la maggior parte dei casi sono le copertine dei libri mentre le immagini interne le immagini che metteremo dentro l'articolo che spesso sono le fotografie degli autori che accostiamo alla biografia dopodiché apriamo il nostro bossware mi utilizzo Chrome ognuno di voi può utilizzare quello che preferisce e quando apro il mio programma per la navigazione web vi posiziono nel link per effettuare l'accesso al blog cosa che io ho già fatto quindi voi dovete fare l'accesso al sito, al blog tramite il link che vi ho già inviato utilizzate le vostre credenze di accesso e questa è la prima procedura poi avremo una nuova scheda con la disponibilità di Amazon che ci servirà per prendere diverse informazioni del libro la home page del blog dalla quale poi prenderemo i link che ci serviranno e il canale YouTube avremo anche la finestra di YouTube dove cercare video che dovremo allegare al nostro articolo quindi quattro schede fondamentalmente poi ne apriamo un'altra perché cerchiamo magari la biografia e quindi cerchiamo su Google o su Wikipedia insomma cosa faccio io oggi? vi faccio vedere un po' tutte le impostazioni da rispettare abbiamo nuove impostazioni che ci ha indicato anche il ragazzo che si occupa del sito e prendo una recensione magari in bozza la sistemiamo insieme così vi faccio vedere contestualmente come sistemare una bozza e come creare un nuovo articolo mi posiziono in bozza prendiamo una recensione non so ad esempio di prendiamo una recensione di Marika e quindi sono andato ho fatto il login sono andato su articoli lo faccio ripetere ho fatto il login vado su articoli poi vado nelle bozze io le vedo di tutti perché sono amministratore del sito scelgo qual è la bozza da sistemare e qui c'è modifica questo è per modificare le bozze esistenti qualora invece volessi scrivere una nuova recensione basta molto semplicemente posizionarsi nuovo su articoli per chi volesse creare un nuovo articolo qui aggiungi nuovo ok adesso modifichiamo una bozza quindi torno su articoli bozze scelgo la mia bozza da sistemare in questo caso una recensione di Marika e mi vado a cliccare qui su modifica e adesso entriamo nel vivo allora io adesso cancellerò un po' tutto così vi faccio vedere come impostare tutto da capo il libro è la valigia del venerdì autore Antonio Giuliano la prima cosa che faccio me lo cerco per comodità su Amazon facendo copia e colla sperando sappiate fare tutti copia e colla non credo sia qualcosa di difficile mi cerco il libro su Amazon perché mi servirà per prendere informazioni vabbè la valigia del venerdì giustamente mi sono uscite le valigie inserisco l'autore e vado avanti eccolo qui perfetto lo tengo qui disponibili dal quale poi prenderò tutte le informazioni qualora ci fosse la possibilità di selezionare il formato digitale perché in genere qui accanto a copertina flessibile c'è Kindle e altri formati selezioniamo sempre copertina flessibile è più comoda per altri aspetti quindi selezioniamo copertina flessibile allora io adesso cosa faccio in sostanza di tutto il resto perché è pasticciata perché è fatta nel vecchio modo io mi cancello tutto quello che non mi serve anche così vi faccio vedere come inserire un nuovo particolo ah se qualcuno di voi dovesse notare che questa barra degli strumenti non è completa bisogna cosa voglio dire magari la vedete così come faccio a selezionare il colore del testo e altre impostazioni bisogna andare qui mostra nascondi barra degli strumenti cliccarci e le appare allora io mi cancello tutto quello che non mi interessa perché queste sono le impostazioni vecchie e non vanno per niente bene anzi vanno malissimo per comodità proprio mia per essere più sbrigativo poi voi fate come preferite ma vi suggerisco di fare così nel caso in cui vogliate correggere qualche bozza io mi apro il nuovo file word mi prendo la recensione me la copio me la riporto nel file word e qua me la lascio pulito così lavoro ex novo però la recensione ce l'ho salvata sul word me la copio e me la incollo me la salvo così ci lavoro ex novo ok me la riduco di icona e qui cancello tutto e adesso cosa dobbiamo fare allora questo spazio qui che adesso sto selezionando questa barra qui che adesso sto selezionando lì è il titolo di questo articolo e si tratta di una recensione quindi sarà così recensione dopo recensione scrivo il titolo del libro io per comodità me lo riprendo da amazon perché in questo momento sono pure stanco non mi fido della mia memoria quindi me lo prendo me lo copio da amazon e me lo riporto qui poi se ve lo riporto da memoria lo scrivete quindi è importante che qui ci vada questa dicitura recensione e il titolo del libro punto non ci va più nient'altro qualora il titolo fosse lungo ci fermiamo al primo punto del titolo e lo aggiungiamo il resto lo aggiungiamo come sottotitolo in questo apposito spazio subtitle qui nel caso ci fosse un titolo lungo qui è breve non è necessario quindi recensione e il titolo del libro prima di proseguire dobbiamo impostare nel menu a tendina che c'è qui un oggetto che sto stoccando io e impostare paragrafo dopo di che il colore del testo deve essere nero e il testo deve essere allineato a sinistra la prima informazione da riportare è proprio questo qui questa qui quindi posso fare benissimo un copia e incolla incollate sempre come solo testo per essere sicuri di non pasticciare nel formato verifichiamo che sia di colore nero e questa la mettiamo in rilievo con il grassetto mi raccomando allineata a sinistra dopo la recensione la valigia del venerdì sotto ci vanno altre informazioni e sono le seguenti cioè quelle riportate nei dettagli prodotti di Amazon io precedentemente ho cercato il libro su Amazon e adesso mi copio i dettagli prodotto ma soltanto fino al codice ISBN del peso del numero delle pagine eccetera eccetera non mi interessa quindi posiziono con il mio cursore del mouse mi seleziono fino a qui i dettagli prodotto mentre è selezionato clicco con il tasto testo sul mouse copia torno nella mia scheda della recensione mi posiziono sotto recensione della valigia del venerdì e clicco con il tasto testo e incollo come solo testo incolla come solo testo ora non me lo sta dando perché evidentemente non l'ho copiato bene lo rifaccio copia incolla come solo testo quindi cliccando in un punto libero con il tasto testo del mouse si apre questo menu e clicco incolla come solo testo questo va sistemato dettagli prodotto lo selezioniamo e mettiamo chiaramente di colore nero e lo mettiamo in grassetto anche questo qui lo selezioniamo e gli diamo un'impostazione del colore nero perché potrebbe essere grigio scuro dobbiamo essere sicuri che sia nero poi vedete che ci sono questi spazi da ottimizzare tra i puntini e lo aggiustiamo con chiaramente riducendo gli spazi che non dovrebbero starci lo formattiamo bene e avanti dopo i dettagli prodotto dobbiamo inserire la biografia dell'autore quindi faremo in questo caso una ricerca della biografia dell'autore e scriveremo però proprio questo per favorire la ricerca su google dovremmo scrivere una domanda qui all'interno allora io non mi ricordo chi è l'autore me la vado a cercare mi ha detto che l'autore è Antonio Giuliano mi copio il nome e scrivo questo per favorire un discorso di ricerca su google chi è Antonio Giuliano me lo scrivo oppure lo incollo come solo testo controllo sempre che sia nero il colore del font questo magari lo impostiamo per dare enfasi così ecco magari un attino chi è Antonio Giuliano ma la mettiamo tutta tutta impostata per dare un po' di enfasi quindi magari in grassetto in corsivo ok col punto interrogativo e sotto ci scriviamo cenni sull'autore biografia biografia ok per mettere il rilievo la selezioniamo la parola con il doppio clic con il cursore sulla parola la mettiamo in grassetto controlliamo che sia nero ok e mi vado a cercare la biografia di Antonio Giuliano su google apriamo una pagina di navigazione una scheda di navigazione siamo su google e scriviamo biografia Antonio Giuliano quando troviamo dei risultati vediamo un po' cosa troviamo Antonio Giuliano è un nuovo romanzo intitolato quando sono un autore importante la bibliografia si ritrova su wikipedia diversamente ci dobbiamo un attimino arrangiare recensione libro va bene biografia lo scrittore emergente nasce in napoli questa mi sembra diciamo tra le prime come risultato quindi dovrebbe essere più completa ci clicco sopra con il tasso destro apriamo una scheda o me la o me la aggiorno come questo fate come vi viene più comodo io apro in una scheda oppure andate direttamente nel sito della casa dice la biografia pubblicata lì biografia di Antonio Giuliano vedete anche qui chi è Antonio Giuliano non è casuale lo scritto nasce a napoli è passione di scrittura ovvero me la copio sperando che sia lui io non sto appurando adesso queste informazioni ma sto facendo semplicemente questo video per dare indicazioni però mi sembra un po riduttiva onestamente vediamo se c'è qualcosa di meglio vediamo un po sto guardando si trova qualcosa altrimenti si prende quello che si trova non è che bisogna stare ora a cercare biografie in maniera più assoluta biografia di Antonio Giuliano ah perfetto qui c'è scritto solo vabbè non c'è granché ci copiamo questa la selezioniamo copia torniamo nella recensione nel nostro sito sotto biografia sempre clicco con il tasto testo del mouse incolla come solo testo ok dovremmo citare anche la fonte quando citiamo le fonti cortesamente non mettiamo indirizzi link perché le persone devono rimanere all'interno del blog più tempo possibile quindi noi se vogliamo citare la fonte qual è il sito il sito è recensione libro dovremmo scrivere sotto per intenderci fonte recensione libro così si chiama il sito quindi lo dovremmo chiamare così questo già vedete che anche qui è fatta bene la impostazione però sinceramente a me non va di citarlo in questo momento perché mi sta bene anche mettere queste informazioni senza la citazione anche perché è un sito competitor quindi non lo citiamo non succede niente queste sono informazioni libera di diffusione all'interno dei blog è diverso se sono testate giornalistiche se sono testate giornalistiche bisogna citarle si scrive la fonte però non mettendo link mettendo il nome lo scrittore emergente Antonio ok controlliamo che si è scritta correttamente alcuni sono scritti sono stati pubblicati in antologia ok ha pubblicato bene la sistemiamo la formattiamo per bene ok controlliamo sempre che sia il colore nero questo è fatto dopodichè dobbiamo prenderci anche la sinossi del libro e in questo caso mettiamo un'altra domanda qual è ad esempio qual è la trama qual è la trama del libro e mettiamo il nome del libro lo mettiamo tra virgolette io me lo sto copiando me lo sto incollando per fare prima mettiamo qui tra virgolette e il punto interrogativo diamo un pochettino di enfasi scusate mi è scappato un colpo di mouse diamo un po' di enfasi così ok controlliamo che sia sempre il nero qual è la trama del libro la valigia del venerdì e sotto ci scriviamo sinossi ufficiale mettiamo il rilievo andiamo controlliamo che sia nero la sinossi ufficiale la prendiamo da amazon e questa è qui ok me la seleziono me la copio e me la incollo come solo testo controlliamo che sia sempre nero sia sempre tutto allineato a sinistro questa è la sinossi ufficiale dopodichè andiamo a scrivere la recensione ma prima dobbiamo inserire un'altra domanda ad esempio di cosa parla il libro e mettiamo di nuovo il titolo oppure di quali argomenti si occupa il libro cosa racconta il libro cioè dobbiamo inserire una domanda prima di mettere la recensione ok quindi di cosa narra il libro e mettiamo sempre il titolo del libro di cosa narra di cosa parla quali argomenti tratta dobbiamo inserire una domanda prima della recensione andiamo sotto e poi scriviamo recensione la recensione me la sono salvata in un file word chiaramente la parola recensione la mettiamo sempre in rilievo con il grassetto mi prendo qui la recensione di marica poi questo poi la correzione dei testi eccetera eccetera poi eventualmente si fa con calma questo è solo per dare indicazioni su come pubblicare mi copio la recensione torno nel mio sito incollo incollo come solo testo controlliamo sempre che sia nero quando chiaramente ci sono paragrafi così lunghi ogni tanto quando ci sono dei punti diamo un po' di ossigeno un po' d'aria al testo dando lo spazio ok vediamo un po' magari così va bene poi vediamo perché c'è anche la verifica della leggibilità se questa impostazione va bene al termine della recensione torniamo a capo e ci firmiamo in questa cosa la recensione di Marica Marica Mendolia ok lo mettiamo in rilievo con il nero e anche magari in corsivo e lo allineiamo a destra e fin qui ci siamo ma non è finita dopo aver fatto questo quindi dopo la firma si scriverà continua a leggere le nostre recensioni dopo averlo scritto lo seleziono tutto do enfasi con il grassetto imposto il colore nero e la parola recensioni la seleziono cliccandoci due volte sopra con il cursore chiaramente con il tasto sinistro del mouse e lui la seleziona mentre è selezionata la imposto in corsivo e gli do come colore il blu questo blu non troppo chiaro e neanche troppo scuro questo blu proprio quello che esce con la scritta blu è dopodiché dovrò inserirci un link che rimande alle nostre recensioni e a questo punto ci torna utile aver già aperto la pagina del nostro sito quindi mi posiziono nella scheda del sito clicco su recensioni libri non nelle categorie ma proprio su recensioni libri ci clicco sopra nella barra degli indirizzi troverò il link che mi torna utile questa qui è la barra degli indirizzi ci faccio doppio clic si apre tutto seleziono tutto con un altro doppio clic a questo punto clicco con il tasto destro del mouse copia torno nella recensione seleziono la parola poi vado su inserisci link o qui inserisci link mi si apre questa finestra mi posiziono all'interno clicco con il tasto destro del mouse e seleziono incolla e dopodiché premo questo tasto per applicare e questo è importante dopodiché dovrò inserire qualche video riguardante il libro o l'autore o al limite un argomento associato a quello che tratta il libro o qualcosa della casa editrice quindi andiamo a cercare questo video su youtube io cosa faccio cerco proprio il anzitutto il titolo del libro me lo copio poi se lo volete scrivere scrivetelo vado su youtube me lo incollo nella barra di ricerca dei video di youtube e clicco su cerca vediamo che succede escono argomenti vaghi allora ci aggiungo anche il nome e cognome dell'autore io me lo scopiazzo da amazon per comodità magari voi ve lo ricordate a memoria e lo scrivete quindi mi vado a scrivere il titolo del libro sulla ricerca di youtube e anche il nome e cognome dell'autore vediamo un po' che esce Oscar Di Manic l'origine dell'attore no non è lui non è sempre detto che escono risultati vedo risultati molto vaghi qua siamo in difficoltà proviamo a cercare soltanto l'autore Antonio Giuliano vediamo cosa esce allora qui c'è un'intervista ad Antonio Giuliano dovrebbe essere lo stesso scrittore dovrebbe essere lo stesso scrittore ad esempio se ho dei dubbi vado a sincerarmene facendo delle ricerche online che qui parla di un'intervista circa questo libro Antonio Giuliano e parla di questo libro di Namb Butal io magari mi do un'occhiata su Amazon ad esempio cliccando sull'autore vedendo quali sono i suoi libri e infatti c'è questo libro qui per cui è lui e io cosa faccio stabilisco questo video va bene lo apro su YouTube cliccandoci la metto in pausa e torno un attimo nella mia recensione e ci aggiungo guarda l'intervista o guarda questa intervista come preferite io metto guarda l'intervista allo scrittore lo metto in rilievo di colore nero aggiusto un attimo perché la formattazione può essere dovuto all'articolo di prima vabbè andate qui scrivete guarda l'intervista allo scrittore vado a capo torno al canale al video quindi torno sulla pagina YouTube seleziono il link del video vediamo se c'è un condividi ci dovrebbe essere anche copia link vediamo ecco così vi dovrebbe venire più facile torno nel video che mi interessa condividi clicco su condividi qua c'è il link e clicco su copia ok lui l'ha copiato torno nella recensione e a questo punto mi devo inserire il link come clicco qui in alto aggiungi media inserisci da url di posizione in questa posizione qui dove c'è proprio questa barra degli indirizzi apposi clicco con il tasto destro incolla e poi in basso a destra inserisci nell'articolo anche se magari questa è un'intervista che riguarda un altro libro però è sempre dell'autore a noi interessa avere dei video all'interno dell'articolo ma inseriti così senza copia e incolla del link perché quello mi fa solo danno devono essere inseriti così e questo l'abbiamo fatto adesso passiamo nella parte diciamo più in basso dove ci sono delle informazioni allora che dobbiamo inserire qui ricordiamo subtitle quando è un titolo di un libro è molto lungo inseriamo il titolo del libro più importante qui e la rimanente parte eventualmente la mettiamo come sottotitolo questo non è il caso quindi niente nella frase chiave cosa ci dobbiamo mettere il titolo esatto dell'articolo che in questo caso è recensione la valigia del venerdì potete trascriverlo digitandolo oppure facendo come in copia come vi interessa come preferite quindi frase chiave il titolo esatto dell'articolo poi qui nello slag cosa ci va il titolo esatto dell'articolo ogni parola separata da un trattino quindi io me lo sono copiato e me lo sto incollando ma ogni parola deve essere separata da un trattino io sto facendo questo video più lentamente come mi ha chiesto Maria Grazia vado a che sia chiaro quindi qui nello slag ci va il titolo esatto dell'articolo separata da ogni parola dai trattini mentre qui nella frase chiave ci va il titolo esatto dell'articolo senza trattini liscio nella meta descrizione cosa ci va il titolo esatto dell'articolo scritto qui non ce ne vogliono trattini punto e poi un commento perché questa sarà l'anteprima dell'articolo online quindi può essere una parte della recensione o un vostro commento in riferimento alla recensione del libro sul libro o sull'autore o qualcosa che vi ha colpito l'importante è che questa barra sia verde e che arrivi al massimo fin qui quindi deve essere verde e deve arrivare al massimo fin qui ora ve la faccio solo vedere poi scriveremo qualcosa e si vedrà chiaramente perché lui considera in questo caso sta considerando solo le digitazioni non cosa c'è scritto però per farvi vedere deve arrivare fin qui ok deve essere verde così va bene se supero lei diventa arancione e non va bene ok bene adesso vabbè cancelliamo quello che ho scritto qua poi vi faccio vedere cosa inserirò aspetta vabbè facciamogli a fare ok e questo l'ho tolto l'abbiamo sistemato poi lì ripeto metteremo qualcosa un commento qualcosa che ha scritto Mari che la estrapoleremo dalla recensione l'importante è che deve essere verde questo l'abbiamo sistemato qui l'abbiamo messo andiamo poi sulla parte diciamo destra del nostro articolo e vediamo che ci sono le categorie le categorie prendiamole da Amazon torniamo sul libro chiaramente Amazon ci dice questo è un libro di di che genere ah qua c'è la nostra vecchia recensione non ce lo dice in genere Amazon le dice le categorie se è un giallo se è un thriller lo dice in genere lo dice sotto i dettagli prodotto ti dice narrativa giallo te lo dice in questo caso non lo sta dicendo ma ci fidiamo di Marika che ha già selezionato narrativa quindi seleziamo due massimo tre categorie perché ci sono alcuni libri che spaziano lo sapete però due o tre categorie ricordatevi sempre di selezionare recensioni libri quando si trattano di recensioni perché altrimenti non non vengono pubblicate non sono pubblicate perché bisogna selezionare recensioni libri e poi andiamo nei tag allora tutti questi codici non ci interessano più il nome e cognome dell'autore va bene lo dobbiamo inserire e frecciadoro questa sarà la cosa editrice credo vediamo sì quindi qui cosa va inserito il nome e cognome dell'autore la casa editrice gli sbn altri codici no va inserito il nome del blog va inserito il recensore e in questo caso Marica Mendolia e il mio nome d'accordo questo va inserito come si fa a inserirli beh ora vi faccio il mio nome e lo rimetto così è chiaro a tutti ci si posiziona dentro il menu sopra la parolina qui aggiungi ci si posiziona qui con il cursore si scrive e poi si clicca invio dalla tastiera ora dobbiamo impostare le immagini immagini in evidenza poi noi qui dobbiamo mettere anche la fotografia dello scrittore così vediamo come si fa dove prendiamo l'immagine in evidenza la prendiamo da Amazon cosa vi suggerisco in questo caso dato che il file dell'immagine dovrà riportare il nome esatto dell'articolo che è questo recensione la paligia del venerdì il file immagine dovrà riportare questo nome separato da trattini e il formato deve essere jpeg e la risoluzione 800x600 qualcosina meno va bene perché a volte le proporzioni non sono precise ma non deve essere oltre gli 800x600 quindi io questo nome già così ce l'ho da qualche parte e me lo copio da lì per comodità poi se ve lo volete scrivere digitandolo come volete ma me lo ritrovo già qui nello sdrag fondamentalmente lo sdrag me lo sto copiando e deve essere il nome del file immagine che utilizzerò per impostare come immagine evidenza vado su Amazon visualizza immagine ci clicco sopra col tasto destro del mouse e clicco su apri immagine in un'altra scheda e lui me l'ha aperta ci clicco di nuovo sopra col tasto destro del mouse salva immagine con nome dove la salvo beh mi sono fatto la cartella apposta immagine in evidenza il formato è già in jpeg e sono a posto il nome del file io me lo incollo perché me lo sono copiato prima ma deve essere il titolo dell'articolo separato separato da ogni parola dai trattini e clicco su salva questa scheda la posso chiudere anche questa e vado a sistemare il file immagine immagine evidenza dove ho selezionato io per salvare il file e clicco ci clicco sopra con il tasto destro del mouse e clicco apri con Microsoft Office Picture Manager anche il Paint va bene io preferisco il primo me la apro clicco su modifica immagini ridimensiona menu a tendina 800x600 e clicco su ok correzione automatica per vedere se è meglio o peggio con il contrasto la luminosità ma mi sta bene così e clicco su salva è abbastanza semplice qualora non abbiate un programma ma sono programmi incorporati con Windows c'è anche il Paint vi faccio vedere come si fa con il Paint nel caso in cui ci fossero difficoltà con questo programma magari non lo avete disponibile clicco clicco sul file con il tasto destro il mouse apri con Paint e mi trovo il Paint qui in alto troverò la voce ridimensiona mi posizionerò su Pixel e rispetterò le proporzioni del numero maggiore e del numero minore quindi qui metterò 800 qui 600 e poi cliccherò su OK chiaramente già su questo formato perché l'ho modificato prima clicco su OK poi vado sul salvataggio del file salva col nome immagine jpeg è sempre la stessa storia di prima mettendo il nome del titolo separato con i trattini e cliccherò su salva ma non è il caso di farlo perché sarebbe una ripetizione dopo che ho sistemato l'immagine la devo impostare torno nell'articolo imposto immagine in evidenza e me la vado a prendere da carica file in alto a sinistra seleziono file riposiziono nelle immagini interne o nelle immagini in evidenza a seconda di quello che mi serve in questo caso sono immagine evidenza sono le cartelle che abbiamo creato prima seleziono qui il file e lo aggiungo allora qui bisogna prestare attenzione come vedete già c'è il titolo e qua va bene così nel test alternativo bisogna riportare il titolo senza però i trattini quindi io ce l'ho copiato me lo sono incollato ci toglie i trattini va bene e fino a qua ci siamo quindi nel test alternativo ci va il nome senza i trattini sotto lo dovrebbe già prendere in automatico se avete fatto tutto per bene e ancora più sotto ci va sempre qualcosa nella descrizione riportate il nome dell'articolo senza i trattini quindi va inserito anche qui qualcosa prima nell'altro video avevo dato un'informazione diversa ma ora utilizzate questa informazione va inserito il titolo ok senza i trattini dopodichè clicco su imposta immagine quindi l'immagine deve essere in formato jpeg di una risoluzione 800x600 o qualcosa meno non è un problema l'importante è che non sia di più quindi jpeg 800x600 il nome del file che salvo nel computer deve essere il nome dell'articolo tale e quale ogni parola separata dai trattini e le informazioni da inserire sono queste nel test alternativo il titolo dell'articolo senza trattini il titolo invece qui dove c'è questa voce titolo va riportato con i trattini e nella descrizione senza i trattini l'ho fatto rivedere perché è importante e poi chiaramente si imposta come immagine evidenza questo è uno andiamo avanti e cerchiamo la fotografia di Antonio Giuliano vedete che ci sono tanti passaggi da qui vi rendete conto perché io non posso più pubblicare le recensioni per conto terzi perché anche se fossero una di ciascuno di voi ogni tanto ma ruba parecchio tempo vabbè sto andando piano perché devo spiegare però capite bene che tutto questo tempo io non posso non riesco più a gestire le recensioni per conto degli altri andiamo avanti e cerchiamo l'immagine di Antonio Giuliano a volte su Amazon capita che c'è l'iconcina con la foto la si apre e si può salvare anche quel file però non c'è in questo caso me la sto cercando su Google su Google immagini e c'è la fotografia ne trovo una che mi può interessare chiaramente verificando che sia effettivamente lui ma a me potrebbe andare bene ad esempio questa qui o anche questa diciamo do anche un'occhiata più ampia ma ci clicco sopra vediamo che foto è qua mi dà anche la risoluzione se è troppo bassa non va bene questa potrebbe andare bene vediamo questa qui anche questa potrebbe andare bene però questa qua mi piace quindi me la seleziono me la apre qui di lato poi ci clicco sopra con il tasto destro del mouse apri immagini in una nuova scheda eccola qui e devo fare il salvataggio di questa immagine deve riportare lo stesso nome che abbiamo utilizzato per l'immagine in evidenza questa regola vale soltanto per la prima immagine che inseriamo nell'articolo allora inserissimo una seconda immagine per qualsiasi motivo perché ad esempio c'è un libro scritto che ne so da due autori allora la seconda immagine dentro l'articolo non la seconda immagine dell'articolo in generale perché l'immagine la prima che abbiamo inserito è quella dell'immagine in evidenza di copertina poi c'è la prima che inseriamo dentro l'articolo che deve essere nominata nello stesso modo in cui nominiamo l'immagine in evidenza se ne aggiungiamo un'altra il nome può essere diverso ma deve rispettare sempre i criteri di trattini e non trattini per essere più sintetico possibile quindi io mi ricopio di nuovo il tipo di nome che deve essere ripeto il file deve riportare lo stesso nome dell'articolo con i trattini per questo motivo ho fatto due cartelle diverse all'inizio quindi mi sono copiato il nome che mi interessa oppure se lo volete digitare lo digitate l'importante è che sia questo nome qui separato da trattini anche per questa immagine mi posiziono nella fotografia ci clicco sopra il tasto destro salva immagine con nome me la salvo ah questa è in formato web io la conversione la so fare voi non lo so però potrebbe essere un modo per far capire come fare oppure facciamo che cerchiamo un'immagine che non ci dia questo ostacolo perché magari per alcuni può essere un problema il formato web è un po' complicato da gestire per chi non è pratico di informare cerchiamo un'altra immagine che sia in jpeg vediamo questa qui apri immagine un'altra scheda questa è in jpeg quindi siamo a posto ci clicco sopra con il tasto testo del mouse salvo immagine con nome me la vado a salvare nell'immagine interna e il nome deve essere vedete che anche lui già l'ha usato in maniera corretta però noi dobbiamo usare questo recensione trattino la valigia del venerdì e me la salvo io già so che il formato è inferiore rispetto agli 800x600 e 240x360 quindi non c'è bisogno che faccio nessuna modifica di dimensione ma posso andare direttamente già inserirla all'interno dell'articolo io posiziono nel mio articolo come si inseriscono le immagini degli autori mi posiziono subito diciamo sotto la biografia sotto la parola biografia a inizio della riga posiziono qui il cursore prima della prima parola della prima lettera avete qui a sinistra ok clicco su aggiungi media aggiungi media carica file seleziona file vado nella cartella che mi interessa quindi dentro immagini interne articoli seleziono il file che mi interessa clicco su apri e lo allineiamo a destra questo formato 200x300 va bene e qui la solita nomenclatura qui dove dice testo alternativo ci va il nome dell'articolo senza trattini e qui bisogna scrivere la descrizione mettiamo in questo caso recensione la valigia del venerdì potremmo aggiungere anche foto di Antonio Giuliano è una descrizione in questo caso di una foto della biografia però possiamo anche lasciarla così non è un problema si può lasciare anche così però possiamo mettere anche per dire foto di Antonio Giuliano però possiamo anche lasciare così dopodiché clicco su inserisci nell'articolo come vedete è già stata inserita poi per vedere per controllare che si è posizionata correttamente possiamo andare a cliccare poi su anteprima per vedere insomma come sta avvenendo l'impostazione della fotografia rispetto al testo se è troppo in basso se è troppo in alto si può sistemare chiaramente a questo punto vedete che la fotografia scavalla un po' la biografia quindi devo ridurre un po' la foto e far scendere queste parole quindi mi posiziono qui torno nella recensione clicco con il tasto sinistro sull'immagine nel tasto di inserire il mouse la ridimensiono un pochino e faccio delle varie prove fin quando non mi soddisfa l'effetto visivo qui lo scendo un pochino sulla foto non ci ho finito di lavorare perché bisogna inserire anche un altro dettaglio ci clicco sopra con il tasto sinistro mi compare questo menu vado sulla matitina dove c'è scritto modifica ci clicco sopra e qui attributo titolo dell'immagine dovrò inserire il titolo dell'articolo separato da i trattini che ho sempre già copiato quindi lo incollo quindi qui ci va il testo alternativo senza i trattini che è il titolo sempre dell'articolo sotto attributo titolo title titolo dell'immagine sempre il titolo della recensione con i trattini lo faccio rivedere che è importante quindi ci clicco sopra col tasto sinistro il mouse modifica testo alternativo ci va il nome esatto della recensione quindi recensione nella valigia del venerdì e in basso dove dice attributo titolo titolo letteralmente dell'immagine ci va il titolo della recensione separato con i trattini è importante dopo di che clicco su aggiorno e questa è una è un'altra anzi poi cosa dobbiamo fare abbiamo inserito il link che rimanda questo l'abbiamo visto già prima siamo già a buon punto e cosa manca qui nella recensione dove dice metadescrizione come vi dicevo prima bisogna inserire un estratto della recensione un commento un parere qualcosa io ad esempio vado a vedere un attimo se Marika ha espresso un parere in tal senso e me lo riporto ad esempio l'autore è riuscito a porre rilievo una tribolata e profonda esistenza una narrazione colma di taglienti scene di impatto una lettura limpidamente schietta ecco questo mi potrebbe piacere proviamo se va bene quindi mi seleziono questa parte della recensione meta descrizione ricordiamoci che ci va sempre prima di tutto il titolo dell'articolo e mi incollo quella parte che mi è che mi è piaciuta che penso che probabilmente qui ci vada bene anche come spazio ma eventualmente la sistemo incollo e ci siamo non è proprio al massimo ma mi può stare bene ci mettiamo qua un punto esclamativo giusto per e questa qua poi darà l'anteprima come vedete quando ci saranno le ricerche su google nei social uscirà questa immagine e questa anteprima e l'abbiamo inserita quindi diciamo che abbiamo fatto si può dire quasi tutto la SEO è buona quindi quando è così verde vuol dire che va bene però occhio che può essere verde anche quando abbiamo dimenticato qualche trattino anche quando abbiamo dimenticato qualche qualche cosina quindi non vuol dire che sia tutto perfetto non vi fate ingannare dice soltanto che è buona poi c'è la leggibilità che in questo caso è arancione questo ignoratelo questo discorso perché è una cosa particolare che perderemmo il giorno a spiegarla però ad esempio cosa mi dice perché è arancione arancione mi può stare anche bene se fosse verde sarebbe fantastico cosa dice qui ci dà l'errore parole di transizione io mi sono posso spaziare in questi schemi no qui c'è la SEO che mi dice che è tutto a posto leggibilità mi sono spostato e cosa mi dice arancione questo ignoratelo poi un discorso lo vedremo dopo però ignoratelo lasciatelo stare un momento qui c'è arancione parole di transizione solo il 26,8% delle frasi contengono delle parole di transizione che non è abbastanza ti suggeriamo di aggiungerne altre qui cliccando ci dà dei suggerimenti io posso anche ad esempio cliccare qui e lui mi evidenzia dov'è il problema andiamo su e controlliamo ma c'è anche problema nella sinossi che capita più frequentemente di quello che si possa pensare posso diciamo decidere di sistemarlo oppure arancione mi può stare anche bene al momento va bene così qui che è successo dove sta il link non si vede per qualche motivo che succede ogni tanto succede ma l'importante è che si veda dopo dopodiché abbiamo in questo senso terminato quindi è cosa prestare sempre attenzione così un leve ripasso al volo qui va inserita la parola recensione e il titolo del libro niente più autore casa editrice recensione e titolo del libro qualora ci fosse un titolo molto lungo del libro si arriva al primo punto e il resto si scrive nella sezione subtitle qui subtitle poi il nome tale e quale di questa situazione qui del titolo così per com'è va immediatamente riportata sotto poi sotto ci vanno i dettagli prodotto aggiustando la formattazione qui non voglio vedere pallini freccine perché vi da rosso poi nell'elegibilità quindi fate copia incollo come ho fatto io prima cioè copia me lo seleziono così così copia copia così da Amazon e poi me lo incollo come solo testo così non vi da il problema dei pallini delle freccine e vi sistemate gli spazi tra i puntini controllate che tutto il testo sia di colore nero poi sotto cosa ci scrivo dopo i dettagli prodotti seguiamo questo format in modo che sia universale per tutti ci vado a scrivere la biografia prima della biografia ci scrivo chi è Antonio Giuliano che è chiaramente l'autore col punto interrogativo e sotto ci scrivo biografia mi trovo la biografia e me la riporto se la biografia la prendo da un blog da un social non siamo costretti a citare la fonte se è una testata giornalistica va riportata la fonte senza link nominandolo e basta fonte due punti che ne so tempo stretto senza mettere www.tempostretto.it perché poi rimane la gente là no e si mette la fonte e si cita questa qui ricordiamoci come l'ho inserita la vedete prima mi raccomando deve avere queste caratteristiche nel testo alternativo il nome del titolo dell'articolo senza trattini nell'attributo titolo dell'immagine con i trattini è allineata a destra sotto ci scrivo qual è la trama del libro e metto il nome del libro oppure qual è la sinossi ufficiale del libro io preferisco la trama che è la cosa più cercata su google metto qual è la trama del libro la valigia del venerdì e sotto ci scrivo sinossi ufficiale e mi rendo la sinossi d'amazon poi prima della recensione di cosa parla il libro di cosa parla di cosa argomenta quali sono i temi trattati ci dobbiamo inserire una domanda e poi la recensione io qua ho scritto di cosa narra il libro uno può scrivere anche di che parla ok e ci sono la recensione al termine della recensione la firma allineata a destra messa in rilievo e in corsivo poi ci mettiamo sotto continuo a leggere le nostre recensioni ci cerchiamo un video su youtube e lo inseriamo come ho fatto vedere prima qui nella parola chiave ricordiamoci che ci va il titolo esatto di tutto l'articolo senza trattini nello slug ci va il titolo esatto dell'articolo ogni parola separata da trattini nella meta descrizione ci va un commento una riflessione un punto di vista sull'articolo sempre riportando come prima informazione il titolo esatto dell'articolo e poi un estratto della recensione un punto di vista un commento purché questa linea sia verde e non vada oltre io qua si può dire a tre quarti ma anche più siamo al 90% mi sta bene è verde sono felice così immagina ricordatevi in evidenza deve essere un file jpeg il nome del file jpeg deve essere il titolo esatto dell'articolo e ogni parola separata dai trattini e la risoluzione deve essere non più di 800x600 ma deve essere troppo piccola ma non deve superare 800x600 e l'immagine avete visto prima come recuperarla da internet e questa immagine deve riportare anch'essa queste indicazioni il titolo alternativo deve essere il nome esatto del titolo della recensione senza trattini alla voce titolo invece ci vanno i trattini e sotto nella descrizione potete riportare la stessa dicitura senza trattini ok dopodichè e andiamo a controllare la SEO e la leggibilità qui la SEO è buona la leggibilità è ok qui potete selezionare due o tre categorie che le potete trovare su Amazon e dopodichè le dovete flaggare anche recensioni libri fatto ciò la si può pubblicare tranquillamente spero di esservi stato utile per qualsiasi dubbio vi contattate è un video di quasi un'ora lo capisco però spero di aver dato tutte le indicazioni del caso che